... ... ... ... Vabbè ragazzi, salata A Milano... ...Barba, sei contento? Milano ci aspetta, maschio... Abbiamo preso tutto? Guarda, prego la borsa e hai la lista tu? Io ho la lista, controllo un attimo... Ok, aspetta, aspetta. Ok, vai, ci sono. LSD? Sì. Sì. Drib, Bari. Si sono. Infetamine. un attimo ci sono estasi metastiamfetamine c'è la barba neurolettici ci sono ma non tanti penso di azepine non possono mancare maoi è un po' esotico te lo mancerò dextrometrofano ce l'ho io popper e abbiamo 10 boccette bastano crack si no 10 boccette crack si no si si c'è roipnol c'è si c'è stato in farmacia prima sigarette eeeh sigarette io no no io no tu le sigarette ragazzi non le hai prese cioè non abbiamo le sigarette ma Carlo dovevi prenderle tu barba non abbiamo le ma chi doveva barba che faccio mi giro eeeh fa inversione tanto siamo in autostrada le sigarette ragazzi lo so invertiti invertiti adesso io eh vai a Milano senza le sigarette invertiti eeeh